Mi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile Troverete il link e il codice coupon qui in descrizione Sono veloci, affidabili ed economici Yeppa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spon Benvenuti con un nuovo pack opening Scusate se non sto registrando in live Ma purtroppo l'audio è andato compromesso Infatti vedrete la parte principale Dove trovo qualcosa di... il giocatore, un giocatore interessante Lo vedrete in live Perché purtroppo l'audio, ve lo ripeto, è andato un po' a farsi benedire Però quella parte ve l'ho voluta lasciare così com'era Perché è più spontaneo Comunque c'erano... ci sono Ho fatto un pack opening con 5 pacchetti da 35.000 crediti Ed erano, diciamo, pacchetti con 30 oggetti, 26 euro e 18 rari Quindi andiamo ad aprire questo primo pack e vediamo cosa troviamo ragazzi Non si può fare ma... Si può che prenda esos c'erano Con il voto se l'aprazza di pianta dovrebbe accettare a 200 mila conti, 200 mila retti, mi sono rifatto giù i paccoli, mi sono rifatto del paccoli, di marita cazzo, di maria vaffanculo proprio vaffanculo, se, se cazzo, le ultime paccoli andate a cazzo proprio, di maria, di maria e dunque ragazzi avete visto, ho trovato anche il di maria cazzo, di maria che ho venduto sui 230 mila crediti, quindi mi sono rifatto il pacco opening, il secondo pacchetto è una merda colossale, e va bene, tanto il pacco opening ce lo siamo già rifatti, quindi meglio di così non poteva andare ragazzi, visto i miei precedenti pacco opening, perché mi mi segue, sa che sono trovato negli scorsi pacco opening, vi invito a iscrivervi a questo canale se non siete già iscritti e di non perdervi nessun mio video ragazzi, terzo pacchetto da 35 mila crediti, se non è, dovrebbe essere il terzo, e vediamo se questo invece potrebbe uscire qualcosina almeno più interessantina ragazzi, più interessantina, gira la palla ed esce cazzolla, mi aspettavo 84, pensavo a un Sanchez, almeno ci guadagnavo qualcosina in più, e Toh, eh, era simpatico, sono andato a vedere un attimo il suo prezzo, perché comunque è un transfer, quindi, però non costa niente, non costa niente, peccato, però mi è simpatico, ultimo pacchetto, e vediamo come si conclude qui il pacco opening, comunque ragazzi ho trovato di Maria, di Maria in una pack ragazzi, di Maria, vi faccio vedere tutti i pacchetti che ho aperto, perché comunque è giusto farvi vedere non solo le parti in cui trovo qualcuno, ma anche dove non trovo, non si trova niente, perché così sono i pacco opening, e dunque ragazzi, questo pacco opening termina qui, arriviamo almeno a 30 mi piace per Angel di Maria ragazzi, 30 mi piace per Angel di Maria, e dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta, vi ringrazia, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, qui Giovispo, vi ripeto che vi saluta, vi ringrazia sempre, e dunque ciao ragazzi!